il mattino dopo alle sette l'ora della fine del turno di notte e dell'inizio del turno del mattino la sirena di miniera ha spaventato ancora molto bayeddu si è imbizzarrito mentre pascolava l'erba rugiadosa di novembre nei vecchi pascoli del sulcis adesso aneriti di carbone come ha scoperto poi alle prime luci del mattino luisu ha cercato di pulire l'erba a colpi di saggina tenendo bayeddu alla cavezza corta intanto si studiava i luoghi che uscivano dal buio a poco a poco i macchinari complicati mentre i minatori dei due turni lanciavano quei loro sguardi rassegnati sul puledro invece le donne cernitrici della laveria hanno fatto feste e meraviglie a quella novità del cavallo e del cavaliere belli tutti e due per loro di primo mattino luisu ha un po capito il perché degli sguardi degli uomini diversi dai commenti allegri delle donne bayeddu è un puledro di guerra un ritorno al passato un altro segno che le cose vanno di male in peggio anche in miniera insieme a tutto il resto per la guerra se la miniera ha bisogno di un puledro da un luogo come fraus questa grande miniera che pare incomprensibile e paurosa nella notte che man mano diventa meno astrusa la luce del mattino al buio sembrava una foresta scombinata adesso si rivela un'altra cosa anche più misteriosa però umana il grande cantiere che ora luisu vede in tutta la sua complicazione verticale ma niente dell'enorme sua complicazione in sottosuolo ed eccolo accosto all'alta recinzione di filo spinato bayeddu che con tutto il corpo fa gesti preoccupati con in bocca un allarme di fiato tra i labbroni luiso accorre e vede una giovane volpe strangolata da un laccio di fil di ferro morta da poco nella notte brutto segno non sono benvenuti né lui né bayeddu invece sì almeno per il polacco sono benvenuti li vuole tutti e due ai suoi comandi minatori bellici ma io sono già sotto contratto del padrone al mio paese a fraus mound io sono servo di campagna tutto l'anno da settembre a settembre il mio padrone mi ha mandato qua ma solo per portarci il puledro e io non ho le cose mie per restare ho già il biglietto del treno di ritorno il polacco non l'ha lasciato dire ci penso io e se ne è andato deciso a qualche cosa ma cosa può capire quello lì che parla anche straniero delle sue cose a fraus della pioggia del bel tempo di grano e fave di buona e malannata invece è tornato presto so della tua situazione militare tu resti e scendi giù con il puledro servi qui ho parlato al telefono con i carabinieri di fraus aggiustano loro tutto quanto col tuo padrone con la tua famiglia con il distretto militare qui la miniera adesso è militarizzata disciplina di guerra il lavoro e la prosecuzione della guerra con altri mezzi sai cosa vuol dire per te vuol dire abile arruolato minatore contento e se non son contento cosa cambia guarda che ti conviene cambia tutto ti sei visto intorno qui c'è la vita la vita moderna no guadagni molto di più che a fare il campagnolo mi sono informato devi badare a tua madre e una sorella devi solo ubbidire e a lavorare è tutto chiaro tutto chiaro un corno lui è uno che sa bene di cose di campagna di annate di stagioni di buoie di cavalli di servie di padroni di zappe falci aratri e tempi e modi di lavoro sotto il cielo sottoterra no mai pensato prima un lavoro sottoterra né per se stesso né per il cavallo lui era strano con il suo baiedu nella città moderna del carbone uno con l'aria spersa di chi arriva in un posto come quello al suo primo vero viaggio immaginato come un'avventura e invece poi come un so è come un sogno di cose imprecise l'albergo operaio per dire ma che cos'è un albergo operaio due parole che fanno appugni messe insieme che cos'è un albergo operaio luisu non l'ha mai capito veramente per il resto della sua vita tanto meno la seconda sera quando alla fine l'ha trovato il suo il numero 7 l'albergo operaio numero 7 di carboni al suo quarto anno di fondazione ventiduesimo dell'era fascista perché a carboni agli alberghi operai erano sette in quel novembre del 42 erano in tutto sette come i sette pozzi di miniera e i castelli di ferro per andare giù quella seconda sera luisu ha fatto visita alle sette chiese trattato giusto come un cane in chiesa da una a sei volte al settimo albergo operaio il suo poco atteso e trattato per le spicce si è ritrovato stanco morto in sala mensa in un chiasso da bettola in paese due fette striminzite di salsiccia in fondo a un piatto di alluminio e accanto a una pagnotta secca intorno modi di parlare mai sentiti modi sardi nuovi e modi che dovevano essere continentali strani troppo vocianti per luisu troppo nuovo troppo magro troppo solo un cane bastonato come se fosse colpa sua sera lì nuovo tra i piedi in una sera di domenica di guerra nella luce debole giallastra di una sola lampadina sottoalimentata indebolita dallo sforzo bellico grazie mille grazie mille